Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 19. È un'edizione Centauria e il modello in scala 1 a 8. La macchina, che oltre ai tanti titoli vinti, ha vinto, nello specifico, il Reedy di Monte Carlo, nel 1984 con il pilota Walter Rohl e il suo navigatore copilota Christian. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Troviamo il pneumatico, cerchione, metallo-plastica, disco dei freni, plastica, sto leggendo, scusate, questo è in metallo e fa parte questo del disco del freno, poi questo qui, che è plastica e sono i bulloni, ce ne serviranno 5 e 1 di scorta, la rondellina di plastica che viene messa tra la vite DM e il fusello per tenere la ruota in posizione, tre serie di viti. Bene, la prima cosa che vi consiglio di fare è questa. Prendete il fusello, questa è la vite DM, sono andato a crearmi il filetto qui, ma sono andato a crearmi anche il filetto qui. Prendete questo e fatelo girare all'interno, deve essere libero di poter girare. Se così non fosse, quasi sicuramente, come è capitato a me, avrete una colata di vernice qui, andate ad eliminarla, riprovate finché girerà libero. Perfetto. Poi ho preso tre viti AMM e mi sono creato il filetto qui. Allora, prima fase. Per quanto riguarda il crearvi il filetto nel metallo con un lubrificante, io vi consiglio soltanto di usarlo per crearvi questo filetto qui con la vite DM, mentre invece per tutto il resto il metallo è molto tenero. Fate solo attenzione, scusate, perché questa vite qui, sto cercando di dare più luce all'immagine, questa a un certo punto si blocca, vedete, non arriva fino in fondo perché non serve, qui ci va ancora lo spessore della crociera. Quindi attenzione, quando sentirete che la vite è arrivata contro il metallo, fermatevi, altrimenti la romperete all'interno. Prendiamo il pneumatico e scegliamo la faccia più bella, quella che abbia sicuramente meno difetto. Guardate bene perché c'è sempre una parte che è meno bella dell'altra. Questa è la parte migliore. Mi rimuovo le viti che ho usato per crearmi i filetti. Controllatevi anche la piccola valvolina qui del gonfiaggio del pneumatico perché se la troverete mobile dovrete incollarla. Fate attenzione. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e le persone che mi visualizzano. Se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Ricordo che questo è un modello che mi è stato appunto commissionato da un mio iscritto. è un modello che consiglio a tutti gli amanti del genere perché è fatto veramente bene. A questo punto ho preso uno stuzzicadenti, l'ho tagliato in testa. Prendete un pezzo di biadesivo. Io vi faccio vedere tutti i passaggi. così dovrebbe bastarci. Stacco cinque dei sei bulloni che ci hanno dato. ecco qui devo soltanto inserire meglio questo perfetto ecco qui ecco fatto un bel particolare. A questo punto con la vite UM ne ho prese due e mi sono creato il filetto qui perché questo è di metallo. Ricordatevi lettera finale M vanno avitate nel metallo. qui abbiamo uno scasso all'interno. Qui c'è il segmento. ecco qui. Poi con questa parte con le righe rivolta verso il cerchione inseriamo e avvitiamo. fate attenzione quando avitate perché vedete anche se avete i fori già predisposti guardate quanto potete metterlo storto o diritto dipende da voi quindi fate attenzione. lo fate ruotare su un piano d'appoggio lo centrate bene qui guardate vedete che c'è il gradino ancora non va bene così va bene. ecco perfetto a questo punto mettiamo questo così e la ruota ovviamente fate attenzione che si incastri bene tutto provate a vedere se il disco gira sul cerchione non deve girare ovviamente deve essere fisso deve poter girare attraverso dentro semplicemente la pinza dei freni ovviamente per simulare il movimento della ruota vera. dentro le pastiglia dei freni dentro le pastiglie dei freni nonché pastiglie allora perfetto a questo punto prendo la rondellina di plastica ok 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 perfetto però ricordatevi una cosa non ci dobbiamo giocare la ruota deve essere libera ma attenzione deve anche non fare però questo lavoro vedete quindi piuttosto la stringete di più e anche se molto dura comunque non ha gioco ed è quello che ci interessa perché poi il modello dovrà con tutto il peso che ha stare diritto altrimenti se lasciate troppo lenta la vite questa la dm questa qui le ruote poi ve le trovate così e non va bene fatto questo in realtà ci dicono semplicemente di mettere questo il semi asse e basta però se noi vogliamo visto che io vi ho fatto mettere anche la vite dm qui possiamo andare anche a montare tutto come abbiamo fatto per la ruota anteriore sinistra vi volevo anche far notare un'altra cosa io vi avevo fatto vedere quell'intervento per rendere le molle così come la macchina reale vedete non avere il gradino e farlo lavorare diritto non è obbligatorio ve l'ho spiegato quello spazio che vi rimane adesso vi faccio vedere e vi sarete accorti tutti questo guardate guardate la molla qui come si stacca da sopra vedete ecco questo spazio vi rimane anche se voi non interverrete con quella modifica che ho fatto qui perché perché poi ci sarà la barra dello sterzo che va qui che tirerà su questo pezzo quindi non vi preoccupate oltre al peso stesso della macchina non ci saranno problemi se poi proprio vorrete levare un po' di gioco ma ripeto non vi serve vi faccio vedere cosa potete fare io ho preso uno r che in questo caso non metterò perché ripeto non serve se poi più avanti una volta messa la barra dello sterzo mi renderò conto che ancora c'è tanto gioco allora interverrò ho preso questo o-ring la cui misura è ve lo dico subito 7,10 di diametro interno per una sezione di 1,8 parliamo in millimetri ovviamente lo mettete semplicemente così e questo sopra però ve lo sconsiglio ve lo sconsiglio però ci sono persone che magari non amano quel gioco allora a questo punto come vi ho detto prima avremo finito il montaggio però volendo possiamo anche visto che si tratta di mettere solo una vite quella che vi ho fatto aggiungere qui la dm andare ad attaccare tutto completamente come abbiamo fatto per l'altra ruota quindi così se poi ci sarà da smontarlo nuovamente visto che loro non ci dicono di metterla questa vite ci basterà svitare questa nessun problema ecco qua ho dimenticato di mettere il semiassi e sì vediamo se ce la facciamo lo stesso altrimenti svitò la vite nuovamente ma ce la facciamo ce la facciamo eccolo qui ecco ecco bene ragazzi il montaggio è così terminato vi volevo solo far vedere cos'altro ho montato fino a questa uscita che è la 19 ecco qui ecco qui solo per questo musetto frecce comprese ci saranno dedicati 10 led poi andremo a rimuovere queste quattro viti per poter inserire i led nel gruppo fari secondari e infine il cofano anteriore riponetelo sempre in sicurezza mi raccomando eccolo qui alla fine poi andrò a lucidare tutto ma vi garantisco che sono veramente soddisfatto per il grado di finitura che ha questo modello bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo un abbraccio a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari ci vediamo al prossimo video mi raccomando non mancate e grazie sempre con tutto il cuore di continuare a far crescere il canale grazie a tutti